Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, chiede all'ANAS una data certa per la riapertura della Galleria San Silvestro sulla circonvalazione Montesilvano Pescara a Francavilla. Il primo cittadino si è detto sorpreso di aver appreso soltanto dagli organi di stampa dello slittamento di 15 giorni per la riapertura del tunnel e si dice pronto alla mobilitazione per tutelare gli interessi dei cittadini. Sì, fino a pochi giorni fa ero stata rassicurata sempre solo per le vie brevi senza nessuna nota scritta ero stata rassicurata per la riapertura tra fine giugno e primi di luglio apprendo poi solo dalla stampa senza nessuna comunicazione scritta ancora nonostante la mia richiesta scritta fatta un mese fa apprendo che la riapertura slitta di 15 giorni quindi si parla del 15 luglio, a questo punto scriverò un'altra nota è stata pretendendo una nota di riscontro con una data certa perché i cittadini hanno bisogno di sapere quando riaprirà questa galleria che è un'artaria fondamentale per la nostra città. Sio Sindaco, disagi al traffico sì ma è un intero territorio perlizzato? Sì, i disagi sono tantissimi, il turismo è partito e davvero soprattutto nella zona nord di Francavilla ci sono dei disagi enormi in termini non solo di inquinamento atmosferico di inquinamento acustico, di ammaloramento delle strade ma proprio anche per tutto il tessuto economico che lavora in estate e che sta subendo grandissimi danni. Sio Sindaco, lei aveva anche suggerito una soluzione ovvero quella di ultimare i lavori in galleria e poi magari consentire agli operai di fare piccoli ritocchi di finiture durante le ore notturne. Così, che cosa è successo? In realtà questa soluzione mi era stata fornita dall'ANAS stessa che mi aveva rassicurato che eventuali ulteriori lavori li avrebbero fatti di notte. Non so cosa sia successo, sicuramente la sicurezza è la priorità ma io penso che l'ANAS debba capire l'importanza che ha questa arteria e quindi veramente accelerare questa ultimazione dei lavori. Sio Sindaco, lei è pronta a far sentire la sua voce anche con toni piuttosto forti? Me lo chiedono in tanti, i cittadini mi stanno sollecitando e se non avrò risposte certe non potrò che organizzare una protesta a nome di tutti i cittadini e di tutti coloro che abitano nelle aree circostanti a Francavilla.